Il Casarano vola verso la D, il Brindisi prova a tenere il passo da lunga, più 3 sul Barletta, aumentando il margine di vantaggio nella corsa al secondo posto. Sono 7 i turni che mancano al termine di un campionato di eccellenza pugliese che delinea sempre più i suoi scenari. In vetta, dopo 23 giornate, resta sempre saldamente il Casarano. I rosso-blu centrano ad Otranto la decima vittoria nelle ultime 11 gare, piegando 2-1 gli idruntini Maidomi che escono a testa alta dal confronto con la capolista, che dal canto suo mantiene il vantaggio di 9 punti rispetto al Brindisi vittorioso sul Mesagne. Nell'anticipo di sabato, la squadra di Olivieri, dopo essere stata a lungo in svantaggio, vista la rete su rigore di Schirenzi nel finale del primo tempo, è riuscita ancora una volta a ribaltare la situazione nel finale, cogliendo tre punti importantissimi per tenere il passo della vetta e soprattutto per allungare a 3 la distanza dal Barletta, terzo in classifica e bloccato sul pari dall'Unione Calcio-Biceglie. Nei 90 minuti del Manzichiappoli, il Biancorossi, pur cogliendo il diciottesimo risultato utile consecutivo, non riescono mai a imprimere il cambio di marcia necessario per scardinare la difesa bicegliese e sbattono sul muro eretto dal porterino classe 2001 di Bari, protagonista assoluto con la parata decisiva sul calcio di rigore battuto da Negro sul finale di primo tempo. Una prodezza che consegna ai suoi un punto prezioso per respirare dopo 4 K.O. di fila. Alle spalle del Barletta non approfitta del piccolo rallentamento dei Biancorossi, la Forti salta mura bloccata sull'1-1 nella sfida play-off contro la Vigortrani. In vantaggio con Dentamaro i Murgiani subiscono il ritorno dei padroni di casa che dapprima falliscono un rigore con Negro e poi impattano con lo stesso numero 10, restando a contatto con le Magnifiche 5. Altro 1-1 rilevante per la corsa play-off è senza dubbio quello tra Molfetta Calcio e Sansevero, un pari che consegna ai Downi un punto utilissimo per la corsa salvezza, frenando la rincorsa dei Biancorossi di Bartoli alla quinta piazza, attualmente occupata dal Vieste, vittorioso agevolmente sulla vetrana. Prezioso in chiave salvezza è anche il punto conquistato dal Terlizzi sul campo del Gallipoli che permette ai Rosso-Blu di mettere il naso fuori dalla zona play-out. A chiudere il programma di giornata l'agevole 2-0 del Corato su una Molfetta sportiva ormai praticamente condannata alla retrocessione.